Salute a tutti, oggi sono in Bidanova e Vorro, una popolazione bella, che mi piace di umida, lindo e splendente come il sole. Sto in noi e ho detto che io sono l'occasione della nascita, ma vivo in quattro. E noi che sono in campitanese, ho detto che sono in campitano in Bidanova e Vorro, e poi ho detto se è bene in noi, poi ho detto che è un convegno bello e medico, da questo convegno spero di poter fortificare o valorare la lingua nostra. Ho detto in queste due varianti che però sono uniti, uniti un pari, proiettano il saldo S1 e il costo 1 deve essere diffuso o diffuso in tutte le scuole. Ogni anno, se i debiti di lavorare su questa regione, i debiti di lavorare con una lei in O.A., può dare possibilità a tutti i giovani che hanno studiato sulle università, dopo di lavorare in Sardegna e non andare in Vorro, in questo caso, con il salario curriculare con altri professori o maestri della scuola di infanzia o della scuola primaria, un'ora o due ore o un'ora o due ore di lingua in scuola. Non credo altro, non credo altro. Allora, il fatto è che in scuola, io ho provato scuola anni e anni, e ho imparato al suo piccino, come non erano nuove vicende, sul campitanese o sul locutorese, che usare una lingua. Ma non è che l'ha parlato io, l'ha parlato il suo professore, Tullio De Mauro, Simone, gente che ha studiato me da più di me, e quindi noi devemo essere un antupronosi che non ponene un pare al suo francese, al spagnolo, al suo italiano, al suo portoghese, al suo ladino, al suo romancio, al suo vasco provenzale e al suo rumeno della Romania. Tutte queste lingue sono una lingua sorrezza un pare, però questa mamma ha detto tutto il suo ladino, che non ha fatto nascere, quindi noi devemo essere contenti e pregare a me da questa bellezza di questa lingua nostra. Non dobbiamo avere i conti della veddare e della vaga di Nicola. A te lo non devo narrare. Adios a tutti!